pure te che sei truzzo magari l'avrei vista solo in cartolina però si te dico d'ora e fell na qualche immagine te se forma in capoccia ma dando nasce st'immagine che c'hai perché ad ora è una cosa che sta là e se te vai a Parigi e la vai a vede a seconda di non te metti c'hai una visuale e se ce giri intorno sta visuale cambia del giorno è una cosa, del notte è un'altra capace che se ce vai in gita scolastica te fai un'impressione e se ce vai che la piscella tua te ne fai un'altra oppure se non c'hai li sordi per andare a Parigi a cerchi su Google e te vi è fuori una sfirsa di foto tutte diverse ma pure tutte di lei da ad ora ogni ricordo, memoria, cartolina e foto che mille gente hanno postato su Instagram per quanto sembrano tutti uguali che te dici ho capito se è stato a Parigi in viaggio de nozze anche basta tuttavia so ciascuna una visione parziale unica ecco dunque che del onette fa vede statore che quasi sembra che esplode come se ce fosse uno specchio che ha riflette ma lo specchio è rotto è un'immagine e so più di una, è una cosa che quasi si muove come la città moderna che non dorme mai e come il mondo stesso che gira a gira e te fa venire quasi ai vertigini e te potrebbe ricordare quello che faceva Picasso quando spezzetta le immagini che ha infatti pure del onette incubista ma il suo si chiama cubismo orfico dal nome di Orfeo e il poeta e musicista da mitologia greca perché più che un'analisi scientifica il pittore sta attento all'effetto di colori e dei forme quasi come il quadro fosse una musica come se Picasso fosse l'ora de matematica e de lo ne fosse l'ora de musica che pure a musica è fatta de matematica ma almeno te diverti un pochetto grazie grazie